La D'Urso e la Panicucci hanno litigato? La rivelazione di Barbara Barbara D'Urso e Federica Panicucci hanno litigato? Parla la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Cosa è successo tra Barbara D'Urso e Federica Panicucci? Da anni gira voce che le due abbiano litigato e che non si salutino nei corridoi Mediaset, è la verità? Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha seccamente smentito il gossip, sottolineando di non avere nulla contro la collega. Barbarella ci ha tenuto a precisare che stima molto la padrona di casa di Mattino 5 e che la trova un'ottima professionista. Non so se mi detesta. . E se fosse, non capirei davvero il perché. . A me è simpatica e ritengo che sappia fare bene il suo lavoro ha spiegato la mitica dottoressa Giò. Come prenderà la Panicucci tali affermazioni?. . Le parole della Panicucci su Barbara D'Urso. . In realtà già qualche anno Federica Panicucci aveva ribadito avverissimo di non aver mai litigato con Barbara D'Urso. . Voglio sfatare il fatto di avere astio nei suoi confronti. . Penso che tra colleghi debba esserci spirito di corpo e coesione aveva spiegato la presentatrice a Silvia Toffanin nel 2011. . Da allora però le cose non sono cambiate e negli ultimi anni si sono intensificate le male lingue sul rapporto tra le due. . Soprattutto di recente, dopo che la Panicucci è riuscita ad avere ospite Geremias e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. . I tre concorrenti del Grande Fratello Vip sono intervenuti più volte nel salotto di mattino 5 mentre hanno seccamente rifiutato l'invito a partecipare a pomeriggio 5 e domenica live. .